Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa della piattaforma del cinema sociale Tulipani di Seta Nera Rai Cinema Channel. Rinnoviamo il nostro impegno di collaborazione per portare all'opinione pubblica tutte le migliori pellicole che si occupano di sociale. Saluto gli ospiti che parleranno e quindi che ascolterete durante questa conferenza stampa. Do il benvenuto ai nostri testimonial della piattaforma che sono l'attrice Anna Safroncic e l'attore, e potremmo dire tanti altri mestieri del mondo della cultura e dell'arte, Neri Marco Re. Buongiorno a tutti, ben trovati. L'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco. E il direttore di Rai per il sociale, Giovanni Barabini. Il nostro direttore artistico, Paola Tassone. Si aggiungeranno a loro come relatori i tre direttori di sezione, che sono Grazia Di Michele per le social clip, Janet Denardis per le digital serie e Gianfranco Pannone per i documentari. Questo ci tengo molto, AU, di Olga Kalkugina, perché è un film ucraino, ed è un film ucraino che ci racconta il prima della guerra. E quindi sono molto onorato di averlo, anche perché ci restituisce un paese che magari ci dimentichiamo di come era e come speriamo sarà presto.